Ciao a tutti! Oggi vediamo come personalizzare e impreziosire un piccolo cofanetto di legno. Può essere utilizzato per mettere piccoli oggetti, bijoux e prima di tutto, dopo averlo lisciato con la carta vetrata, ho fatto il disegno a matita. Si tratta di una rosa stilizzata. Utilizzerò questo pirografo, un pirografo con la regolazione della temperatura. Qui vedete l'utilizzo. Il pirografo ha la possibilità di regolare la temperatura, anche se in questo caso userò una temperatura fissa, perché comunque non faccio sfumature, ma vado solo a riempire i tratti del disegno. Quindi è tipo una silhouette, una rosa stilizzata. La maggiore difficoltà di questo lavoro è dovuta al fatto che la superficie che devo pirografare è leggermente tonda. Le superfici completamente piatte sono più facili da pirografare. Inoltre questo è un oggettino piccolo, quindi va tenuto in mano per riuscire a vedere bene ed andare a lavorare proprio nel dettaglio. Inoltre questo è un oggettino piccolo, quindi va tenuto in mano per riuscire a vedere bene ed è leggermente tonda. Inoltre questo è un oggettino piccolo, quindi va tenuto in mano per riuscire a vedere bene ed è leggermente tonda. Inoltre questo è un oggettino carino, si può anche personalizzare mettendo l'iniziale di un nome. Se siete alle prime armi con la pirografia vi consiglio questo libro che ho scritto io l'anno scorso, La tecnica della pirografia, lo trovate in tutte le librerie e anche online. Si tratta di un libro che spiega proprio le prime fasi della pirografia, per chi deve imparare e non ha mai provato. Vi ringrazio, se volete visitare il nostro sito elettronicadidattica.com troverete pirografi e accessori per la pirografia. Inoltre continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica. Grazie a tutti e a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!